Allora, annunciato questo video andava fatto, un video di ringraziamento perché siamo arrivati e superati i 1000 iscritti, quanto siamo? A 1100? 1101! 1101 follower amici delle mattonate di NBA Week, quindi... Vi ringraziamo di cuore, di veramente, siete stati dei grandi a supportarci per tutto questo tempo e a sopportarci. E anche a offenderci, a criticare, perché è giusto, costruttivo. Adesso arriva il compito più difficile, perché voi 1100 dovete diffondere il verbo e diventare 2200 la settimana prossima. Esatto. Sarebbe alla grande, con insomma tutte le novità che stanno arrivando, ve le abbiamo annunciate. Anche novità tecniche, vogliamo comprare una camera nuova per registrare video di qualità migliore e... Magari sarete chiamati a sostenersi in qualche modo. Sì, facciamo una raccolta fondi, fateci sapere se siete favorevoli o no. Cioè, per dire, se lui si fa dei gadget, voi li comprate. Cioè, questa è una bella domanda. Se fate la maglietta che è quella che ho indossato tipo in diverse mattonate, voi ve la mettete? No, aspetta perché arriva il logo nuovo tra poco. Comunque, per rendere frizzante la cosa, questa prima stagione, perché non è un anno, delle mattonate, qual è stato il tuo momento preferito, Freddo? Il momento preferito, oltre le interviste, l'intervista a Molinari quando abbiamo apporto le ombrelli perché diluviava troppo e grandinava. E questo lo vedrete. Boss? Ma, senti, a parte l'incontro, il momento del molleggiato e solo noi sappiamo chi è e quando è accaduto, ma il momento di Ellie si porta nella tomba, ma il mio momento preferito è stato quando siamo arrivati a Milano prima di andare a Sky e siamo passati tipo per la piazza principale di Milano e siamo andati all'NBA Store e c'era il sole, c'era un sacco di ragazze svestite, insomma, un bel momento. Per me sono tutti i momenti prima, cioè quelli che non vedete voi, quindi i viaggi, le cazzate prima di iniziare a registrare, per me sono quelli lì. Quindi, video melenzo, video cortissimo perché video ringraziamento, abbiamo già detto. Ragazzi, vi vogliamo veramente ringraziare di cuore. A me sta partendo un crociato. già da tre anni. Comunque, vi vogliamo davvero ringraziare di cuore. E niente, un saluto da Alfredo Uomo. Edoardo. Davide. Ciao. Nel campo più scrauso del Val d'Ami. Io ho cercato di raccontare delle cose che erano successe e ho cercato di dare, naturalmente, conto di alcune valenze che, secondo me... da me se potete alzare tutto il dal, non vedete, da se fin si esce. Scusi. 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 Cortesia questa sminusciuta. Beh, direi... Ma voi siete di siena? No. No. Ah...